e salve a tutti ragazzi per questo nuovo sonore bisogno di cg tsm contertumeremo con la trama principale che faremo che forse probabilmente l'ultimo colpo forse come siamo proprio vicino al finale di gta 5 non vedo l'ora di fare il finale di gta 5 i altri ragazzi saranno trillando e prendendo ciò che possono essere la distrazione sempre l'attentionale, sai che per un ragazzo che è sempre spettando sui amici per farlo ha un senso infortunatamente low di servizio ok ok, mi mostro il bordo per raccomandare, queste sono le opzioni proviamo a farlo di daremo il gordo o se la fiume non trezando la scuola in faccia, e lo mettiamo a farlo ci fiume non trezando la scuola, una scuola per one mi sono andato, ma non la c'è bisogno di portare, pristare la scuola a segnare del metro, per dirello, per ora Oh... Oh, che altro? Oh, certo, hai bisogno di prendere e modere alcuni carri. La spettazione normale dovrà uscire sotto un po' toni di gold. Wow, un po' toni? 4 toni in total. E' quello che posso dare il sistema di diverso in l'acqua che ci stiamo. F*** me! Ok, ok, l'ultima cosa. Ricordate quello che abbiamo visto dal helicoptero? E' quello che dovrò mettere la scuola e le scuole per ottenere la scuola. Non so, forse è il suo senso. Ho detto prima. Michael, subtile o ovvio, cosa sarà? Non so, forse è il suo senso. Non lo so, beh. Dai dai, forse. Tanto che è anche nel coppallaggio di lei abbiamo scelto forse. Ok, siamo entrati le scuole, quindi bisogna solo una squadra di skelton. Se l'ha fatto comunque con astuzze, secondo me dovremmo... Dovemmo fare quel fatto dei semafori che... Sinceramente, non so se ci riesci io. ... 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